Buonasera ai nostri telespettatori per i ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Proseguono gli approfondimenti sulla politica regionale alla vigilia di una lunga stagione che poi ci porterà alle elezioni del prossimo 10 di marzo. Noi abbiamo ospite nei nostri studi il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Buonasera Presidente. Buonasera e grazie a voi. Con il quale dopo aver sentito i rappresentanti dei vari gruppi consigliari e chiudiamo un po' il cerchio di bilancio dell'attività istituzionale e politica dell'Assemblea legislativa regionale in questi cinque anni. Cinque anni che hanno ovviamente risentito dell'effluenza, soprattutto della pandemia, di tante situazioni esterne all'attività dell'Assemblea abruzzese che pure ha avuto molti cambiamenti al suo interno per le dinamiche politiche nazionali. Quello che interessa a noi però è soprattutto capire cosa si porta a casa dopo questi cinque anni di lavoro. Cosa portano a casa soprattutto gli abruzzesi, Presidente? Ovviamente in sintesi. Grazie per la domanda e anche grazie per lo spazio che si dà all'attività dell'Assemblea legislativa dell'Abruzzo. Intanto gli abruzzesi portano a casa il fatto che l'Assemblea legislativa è stato il cuore, secondo me, di questa legislatura regionale. Questo vuol dire che vi è stata la possibilità anche a chi non la pensava come la maggioranza di centrodestra di poter intervenire, proporre, controllare, opporsi o contribuire. Io credo che sia molto chiaro a tutti gli abruzzesi il lavoro fatto dall'Assemblea legislativa, dal Consiglio regionale. Se dovessi sintetizzare le varie fasi di questa legislatura particolare, come lei ricordava, certamente noi abbiamo avuto una forza di risposta durante le due ondate pandemiche che è stata molto apprezzata. Penso alle due leggi Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2 che hanno cercato di dare risposte a tutte le nostre categorie economiche che erano in difficoltà. A volte sono state particolarmente efficienti, a volte sono state un po' più lente perché la platea era molto più grande ma vi è stato un grande spirito di contrasto alle difficoltà. Poi il Consiglio regionale è intervenuto cercando di semplificare la vita degli abruzzesi ovvero di ridurre tante leggi a dei testi unici, nuovi, riformatori che dessero la possibilità ad alcuni settori economici e della vita della nostra regione di avere una maggiore forza. Penso al testo unico sul turismo, penso al testo unico sulla cultura penso all'approvazione del piano sociale regionale, penso alla riforma di alcuni enti strumentali come Abruzzo Sviluppo e Fira che si sono fusi, le comunità montane che sono state riformate e penso all'attività legislativa che attualmente è ancora in corso. Abbiamo appena approvato una legge che dà una parziale risposta ma quella che noi potevamo sul problema bonus edilizi e siamo in dirittura d'arrivo con il testo unico sull'urbanistica e con la nuova rete sanitaria della regione Abruzzo. Ecco, su questi ultimi due prossimi provvedimenti accenderei un po' più nel dettaglio i riflettori. La legge urbanistica regionale, perché è così importante? Da quanto manca in Abruzzo una pianificazione generale con uno strumento legislativo che sia utile ai comuni, alle province a quanti hanno competenze in questa materia? La legge urbanistica regionale è importantissima perché impatta la vita quotidiana di tutti i cittadini abruzzesi di tutte le amministrazioni comunali abruzzesi e di una gran parte di categorie produttive abruzzesi. La legge urbanistica regionale è datata a 1983. Noi la riformiamo dopo 40 anni. 40 anni in cui i comuni si sono regolati nei loro piani regolatori, nelle loro attività edilizie ed urbanistiche avendo come base, oltre che le normative nazionali, la nostra legge urbanistica regionale. Qual è il sunto della nostra legge? Naturalmente mettersi al passo con i tempi che vuol dire evitare il consumo del suolo. evitare le tragedie, le catastrofi ambientali consumando meno suolo. Rendersi più sostenibili, quindi privilegiare l'aumento delle classi energetiche, degli immobili che si andranno a ristrutturare o che si andranno a costruire, a battere le barriere architettoniche, dare maggiori standard alle città, parcheggi e strade e dare impulso maggiore ad un'edilizia di qualità che punta particolarmente a rigenerare l'esistente piuttosto che a costruire del nuovo. Chiaramente abbiamo cercato di eliminare tutti gli orpelli burocratici che appesantivano il percorso di analisi, di valutazione e di rilascio di una concessione di rizia che comprenderete in 40 anni si sono affastellati in maniera prolungata. Approvare la nuova legge urbanistica regionale dopo 40 anni è un'azione positiva perché semplifica la vita dei cittadini abruzzesi, migliora la qualità del governo degli enti locali e a nostro avviso darà anche la possibilità di una leva di sviluppo maggiore alla nostra regione. Invece per la rete ospedaliera dopo l'assenso del governo e l'approvazione in giunta si riuscirà Presidente a portare a casa una nuova geografia delle strutture sanitarie di assistenza in questa regione entro questa legislatura? O prevede ostruzionismi, prevede difficoltà politiche? Allora io considero il palere formalmente assentito del governo sulla riforma della nostra offerta sanitaria un grandissimo successo della giunta Marsiglio. Se non altro perché nessuno si era in precedenza cimentato fino in fondo o addirittura ci aveva provato. È molto complicato portare una tale riforma quando si vanno a toccare argomenti sensibili e quello più sensibile di tutti naturalmente alla salute dei cittadini. Però vediamo quali sono le conquiste di questo nuovo piano sanitario. Tutti i servizi saranno in aumento. Quando parliamo di servizi parliamo di possibilità di avere maggiore risorse umane mediche e paramediche e di avere maggiori posti letto per accogliere chi ha un problema di salute. Il famoso problema degli ospedali minori quante volte a Rete 8 abbiamo dibattuto dell'importanza di non dismettere la sanità sul territorio ma rendere questa sanità integrata e moderna? Voi siete i principali testimoni di questo nostro dibattito così come altri organi di informazione. Finalmente abbiamo una geografia chiara dei nostri ospedali e nessun territorio è stato mortificato dalla nostra riforma. Io credo che sia un fatto straordinario che il combinato risposto di tutti i documenti che hanno portato finalmente ad un parere formalmente positivo da parte del governo di più ministeri sulla nostra riforma sanitaria abbiano anche sbloccato i finanziamenti per l'edilizia sanitaria per costruire finalmente questi nuovi ospedali a Lanciano, a Vasto, a Avezzano in parte anche in provincia di Pescara e in provincia dell'Aquila abbiamo appena testimoniato l'inizio del cantiere della ristrutturazione complessiva e dell'ospedale di Penne. Io credo che sia una riforma straordinaria è un enorme successo della concretezza di questo governo regionale. Se arriveremo all'approvazione arriveremo certamente all'approvazione perché il provvedimento legislativo è già allo studio della commissione competente la quinta commissione regionale naturalmente non strozzeremo minimamente il dibattito le opposizioni faranno il loro dovere come giusto che sia a un certo punto il provvedimento approderà in aula credo prima della sessione di bilancio quindi entro il mese di dicembre e lì io darò il massimo spazio per esercitare la narrazione del dibattito e dell'approfondimento a un certo punto utilizzerò gli strumenti contenuti nel nostro regolamento consigliare per raggiungere all'approvazione. Proprio su questo tema io sto per chiederle che giudizio dà del clima dei rapporti istituzionali tra i gruppi consigliari in questi cinque anni e soprattutto quanto per lei è facile o difficile riuscire a mantenere il profilo istituzionale sia pure nel cuore dei momenti più caldi del confronto politico? Guardi io le devo dire la sincera verità io credo che ci sia stato un ottimo clima in consiglio regionale cioè è impensabile che non ci sia confronto duro tra opposizione e maggioranza ma saranno pochissimi i momenti in cinque anni tra centinaia di sedute di commissione e di consiglio tra personalità anche di grande valore che ci sono tra i consiglieri dell'apposizione in cui il dibattito è scaduto credo che non sia un esclusivo merito mio ma credo che sia la qualità degli uomini e delle donne che in consiglio regionale ci sono io credo che questa sia stata una legislatura estremamente produttiva in consiglio regionale potremmo citare centinaia di conquiste medio, grandi e grandissime che hanno o miglioreranno la vita dei cittadini abruzzesi se questi risultati sono stati raggiunti sono stati raggiunti anche perché c'era un'opposizione che aveva secondo me un giusto profilo istituzionale che non vuol dire non essere una dura opposizione vuol dire essere un'opposizione concreta e dall'altra parte vi era una maggioranza coesa che al 99% è sempre stata coerente con il proprio dovere di appartenenza e forse per ultimo diamogli una piccola percentuale in tutto questo ragionamento anche una buona presidenza del consiglio regionale Sono a chiedergli in questi ultimi minuti che ci restano quale sarà il suo impegno nella campagna elettorale che si sta per avviare tutti sappiamo che si ricandiderà la guida della lista provinciale di Forza Italia per Pescara Sospiri pensa ad una nuova esperienza un'esperienza diversa rispetto a quella istituzionale di cui ci ha parlato finora cioè ritiene magari di poter essere un assessore della futura giunta Marsilio Guardi Sospiri può pensare quello che vuole poi decidono i cittadini con il loro voto io sono molto molto curioso e ansioso di vedere se tutto il lavoro che è stato prodotto in questi anni trova riscontro nell'opinione pubblica che per me è un fattore fondamentale della mia vita non della mia attività politica chi mi conosce sa che io sono un perenne insoddisfatto della mia attività e ricerco sempre il giudizio, il confronto anche il conforto delle persone che incontro dei miei collaboratori anche dei miei avversari e oppositori non so quale sarà la mia esperienza io so che ci sono delle questioni da concludere che sono state avviate e vorrei tanto dare il mio contributo per lanciare definitivamente l'Abruzzo tra le regioni più moderne, più efficienti e più sviluppate della nostra nazione io credo che molto sia stato avviato in termini di grandi opere pubbliche di riforme istituzionali di leggi a sostegno dell'economia abbiamo una programmazione europea tutta da dipanare che serve a colmare dei gap che ancora abbiamo e io vorrei dare il mio contributo lo posso dare in qualsiasi posizione i cittadini sceglieranno se sarò rieletto intanto da consigliera regionale se il Presidente Marsiglio riterrà che ha bisogno del mio aiuto nel ruolo che riterrà se non dovessi essere rieletto vorrei dire che sarà stata colpa mia e lo farò da militante del centro-destra come ho sempre fatto per tutta la mia vita politica Ecco, proprio questa calma nell'affrontare questa battaglia senza sentirsi già vincitori è un tema che Marsiglio ha posto proprio nel suo ultimo intervento qui negli studi di Rete 8 nel commentare la candidatura di Luciano D'Amico lei pensa, teme, che la partita sia aperta non sia già vinta in partenza per il prossimo mese di marzo Io le dico la verità io ho grande rispetto del candidato Presidente Governatore scelto dalla coalizione di centro-sinistra perché è persona che conosco anche personalmente di cui lo stima le devo dire sinceramente che vedo un esito abbastanza chiaro cioè il centro-destra merita una riconferma perché i cittadini abruzzesi hanno capito che grandi riforme e il lancio definitivo della nostra regione tra le regioni che contano in Italia non si può realizzare in soli 5 anni con in mezzo 2 anni di pandemia basta guardare i modelli più efficienti di governo delle regioni credo che abbiano una continuità appunto di governo gestionale che duri almeno da 3 legislature e noi ne chiediamo sicuramente una seconda io credo che il centro-destra rivincerà le elezioni regionali questo però non vuol dire che bisogna essere boriosi arroganti dare per scontato bisogna stare piazza per piazza strada per strada paese per paese città per città e spiegare agli abruzzesi il lavoro che noi abbiamo fatto è quello che vogliamo fare per il futuro parlando non male dei nostri avversari di cui non abbiamo interesse ma parlando bene di noi e facendo capire quali sono i nostri programmi per il futuro grazie grazie presidente Sospiri grazie ai nostri telespettatori per averci seguito in questa chiacchierata appuntamento alle prossime occasioni che credo non mancheranno di qui appunto all'entrata davvero nel vivo di questa campagna elettorale arrivederci e buonasera grazie a lei direttore buonasera grazie a tutti grazie a tutti